all'artist esistenzialista stasera una quartina che ha un pochettino di tratteggi paesaggistici nel senso che rispetto a ciò che io ho potuto magari guardare osservare rimirare qualche oretta fa ci sono delle valutazioni su quello che sono gli anni che passano mini riferimento poi alle verce secolari poi ripeto a mano la vedremo insieme illissi di aragosto vaporoso baciano concave montagne arborescenti quelle rugose verce secolari deflessuosi ciuffi verde bottiglie denotano flebili aspettative ma premurosi promolimenti la roccia calcarina si sfalda lentamente ogni qual volta la schiaffeggia una rugginosa acqua piovana non sempre la verità si nasconde sorgnone sorridente sotto quella ruvida ed acrilica sottano chiaramente il finale della quartina è sempre un attimino spigoloso un po sorpresa ma insomma nulla e ci sono questi tratteggi ellissoidali di un colore particolareggiato una ragosta vaporoso che tende un pochettino lentamente a dipanarsi questo ragosto abbacia lentamente queste montagne che sono concave e quindi con questi tratteggi arborescenti verde bottiglie insomma su questo questo verde molto spiccato e ripeto quindi c'è questo contrasto molto sottile fra questa ragosta che è un gradiente per certi versi dell'arancio no pian piano andiamo verso la ragosta che un po come se per certi versi possiamo dire un quasi un tramonto ecco un tratteggio di tramonto che bacia queste montagne e quindi sono stati d'animo sensazioni non semplicemente visivo non necessariamente visivi anche molto intimiste le querce le querce secolari sono anche un attimino riferimento all'atalico alle tradizioni alle persone anziane a quelli che non ci sono più alle tradizioni a quello che ci hanno insegnato e queste querce sono delle querce rugose ecco un gioco forza un po un attimino gli anni che passano le rughe dietro ogni ruga c'è un'informazione un senso un'esperienza e tanti insegnamenti queste querce hanno di questi ciuffi flessuosi ciuffi sempre l'arte bottiglia e c'è questo vento che smuove questi ciuffi e quindi è un po anche la riflessività che può avere la persona di esperienza ti dà dei consigli dobbiamo cercare anche di ascoltarvi questi consigli che sono persone che hanno una certa età 80 90 100 anni per dire qui parlo di querce secolari ma la tradizione il radicamento non è mai fine a se stesso è teso a proporre positività quindi denotano che cosa questi aspettative flebili sono delle aspettative future non parlano necessariamente di crescita sono aspettative di crescita futuro ok ma soprattutto aspettative se vogliamo temporali ridotte perché sono flebili sono molto molto sottili molto diciamo ridotte all'osso ai minimi termini perché gli anni sono passati però ci sono sempre questi per murro si propone meno di vedere è molto molto bello secondo me perché gioco forza come se io vi dicessi vi propongo una verità vestita da bugia no questo gioco sottile fra quelle che l'aspettativa che è quella che è ridotta ai minimi termini e questi proponimenti questo proporsi questo consigliare essere diciamo elemento di scambio elemento di insegnamento profondo premurosi molto acclarati molto accorati da parte di queste persone anziane e anche queste querce verde bottiglio queste querce rugose color mogono quant'altro fate voi di vecchia data la roccia calcarina anche qui abbiamo sempre la roccia un qualche cosa sempre di ha una forza pregnante una sua positiva un suo spessore una sua volitività una sua titanicità e questa roccia però è una roccia calcarea si sfalda si frantuma e spesso e volentieri quando è che si frantuma una roccia una roccia si frantuma quando spesso e volentieri c'è la mancanza anche di rispetto la maleducazione quindi si sfalda seppur lentamente nel decorso degli anni perché poi è un reiterato il riguardoso non rispetto una scostruzione di una maleducazione atarica è un problema signori miei tutte le volte mi viene schiaffeggiata viene schiaffeggiata questa roccia calcarina immaginate un gettito d'acqua piovana eccetera eccetera quindi molto copiosa rugginosa tra l'altro rugginosa con questa ruggine sono anche le offese un'offesa reiterata io la considero molto rugginosa ecco ti arriva la ruggini in faccia e quindi tendenzialmente questa roccia calcarina queste persone anziane vengono magari anche poco comprese magari atteggiamenti riguardosi o quant'altro ma spesso e volentieri quando non sono più a casa stanno per esempio non so tipo lontane da casa per scelte non lo so non non dico necessario di una casa di cura ma ci può stare chiaramente diventa sempre un problema e poi qui dico la verità non sempre la verità si nasconde è occultata e malcelata sorniona bella tranquilla sorridente sai rido non rido molto sorniosa accattivante quindi cos'è sotto banco non sempre la troviamo sotto una sottana una sottopeste ruvida ed acrilica ruvida perché tendenzialmente ha un suo non necessariamente un tessuto splendido quindi molto molto poco delicato poco leggiato poco amabile grazie Grazie.